Musca scende di nuovo in piazza contro la rielezione di Vladimir Putin al Cremlino. Sono migliaia le persone che si sono date appuntamento per le strade della capitale per manifestare contro i brogli elettorali di domenica scorsa e una vittoria data per scontata fin dall'inizio. Le autorità di Musca hanno dato un permesso per una dimostrazione di 50.000 persone. Gli organizzatori sperano di arrivare a quota 100.000, ingenti e rigidissime le misure di sicurezza. Nonostante questo, sul grande viale Novi Arbat è stato montato un palco per un comizio del quale si alterneranno gli esponenti della Lega degli elettori. Lunedì, il giorno dopo il voto, la polizia ha arrestato circa 250 persone a Musca e altri 300 attivisti a San Pietroburgo. Quello di oggi sembra essere dunque un doppio test per il movimento di protesta incerto sul da farsi dopo il successo di Putin e per lo stesso presidente russo.